Personalmente posso dirti che sta andando abbastanza bene, come speravo sin dal primo giorno quando me l'ho detto che dovevo partire con la prima squadra, quindi sono abbastanza soddisfatto. Luca voi vestite questa moglia da tanti anni, tu e Andrea addirittura eravate compagni già giovanissimi, quindi avete iniziato sin da piccoli insieme. Sì, è un'emozione essere qui insieme perché comunque ci dà grande soddisfazione essere qui sia per me sia per lui, poi essere in tanti palermitani è sempre meglio, però vediamo quello che succede. Eri compagno di Andrea sin da piccolo, è cambiato in questi anni? No, Andrea è rimasto sempre come era, fin da piccolino, fino adesso è sempre uguale, non è cambiato completamente. E' cambiato Luca in questi anni? No, no, per niente, posso dire di aver conosciuto un ragazzo professionista sin da giovanissima e l'ho ritrovato ancora più professionista in primavera e poi in prima squadra. Adesso vi sorprendo, vi faccio vedere, questa maglia è la maglia del Palermo di quest'anno, qual è la prima sensazione che ti sta passando in mente? Ma non c'è solo una sensazione in questo momento, ci sono tante sensazioni che passano nella mia mente, nel mio cuore. Da quando ero piccolo andavo in curva o quando nel mio quartiere abbiamo festeggiato la promozione in Serie A e poi il sogno è quello di esordire con questa maglia al Barbera, quello sicuramente. Per te Luca invece? Questa maglietta per me è una maglietta speciale perché l'ho vestita fin dai pulcini, quindi vestirla per la prima squadra è un'emozione molto particolare. Andrea, parlavi del fatto che domenica si tornerà a giocare in casa, che partita ti aspetti? Sarà importante partire con il piede giusto? Sì, sì, assolutamente, mi aspetto una partita comunque difficile perché la Virtus Francavilla abbiamo visto che è comunque una squadra abbastanza preparata, dobbiamo stare attenti e dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita. Luca, com'è andata fino ad ora questa esperienza in rosa nero, il ritiro, questi primi giorni in città, come sta andando? Ma personalmente è bene, il mister è un grande professionista, quindi ci aiuta molto sia ai giovani sia a quelli più vecchi, quindi ci dà una mano a tutti. Domenica si torna a giocare in casa, vuoi mandare un messaggio ai tifosi, volete mandare insieme un messaggio ai tifosi in vista di questa stagione? Sicuramente diciamo che i tifosi si sono sempre contraddistinti perché sono sempre stati legati a questa maglia e a questa città, quindi sono sicuro che come sempre faranno la differenza in positivo. Anch'io secondo me faranno la differenza sempre in positivo i tifosi perché ci danno una mano in particolare, quindi è importante che loro ci stanno accanto. Forza Palermo! Grazie a tutti!